Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buongiorno, benvenuti sul canale, vi ringrazio perché ieri abbiamo fatto una live sul caso di Liliana De Sinovic, tantissimi di voi, tantissimi, veramente un mare di gente, ne faremo un'altra domenica su Pierina Paganelli e poi sicuramente, sicuramente ne vorrò fare una su Antonella di Massa. Ecco, Antonella di Massa, vedete, questo è davvero un caso anomale e uno scandalo nello stesso tempo, perché non se ne parla abbastanza, noi siamo di fronte, veramente è uno scempio, siamo di fronte al fatto che questa donna, una donna sparita, ritrovata, morta, di cui non si sa ancora nulla, non si sa ancora nulla sulle cause, sul come, sul perché, su qualche mistero che ha leggia, eppure i principali organi di informazione non ne danno notizie. Ecco, vedete, invece di parlare di queste cose importanti, gli organi di informazione cosa fanno? Danno notizie, ad esempio, sul fatto dell'abbosto della Resinovic, forse il padre qua e là di chi era. Vedete, si cerca più il gossip che analizzare invece delle storie, così importanti come quelle di Antonella di Massa. Per cui, io asiverò al punto, e vedete, se non ci saranno novità, cioè se non vedranno date delle spiegazioni, perché vedete, siamo ancora a non sapere niente dell'autopsia, a fare dei video, anche senza parlare, ecco, mettendo il titolo, Verità, Giustizia per Antonella. Verità, Giustizia per Antonella, così, cioè facendo silenzio nel silenzio, ecco, facendo silenzio nel silenzio, come per dire, vediamo il video su Antonella di Massa, quali sono le riflessioni, ecco, e ci manterremo così, in silenzio, così. Un silenzio, così. Un silenzio assordante, perché è impossibile che non se ne parli, vedete, io mi sono fatto un'idea, forse sarà un'idea un pochino fantasiosa, però, veramente, chi mi parla di una similitudine con il caso di Isabella 90, non va molto lontano, perché, brevemente, vi voglio ricordare che Isabella 90 era quella donna che sparì nel 2006, in provincia di Padova, e aveva questa relazione, no, con il suo compagno, con questo Freddy Sorgato, che, praticamente, disse di averla accompagnata al centro, lì, a Padova. Poi, si era creata, insomma, era venuta fuori questa tresca, a cui partecipava la sorella di questo Freddy Sorgato, e questa Manuela, la tabaccaia, e, quindi, a un certo punto, viene attirata in trappola questa povera Isabella, viene uccisa, e, allora, con il suo piumino, il suo giubbino, si veste, si copre proprio questa Manuela, che entra in macchina con Freddy Sorgato, si fa accompagnare, appunto, a Padova, quindi, praticamente, fingono quello che era l'alibi, viene fatto, viene costruito proprio a tavolino, per cui, quella donna che si fa vedere, camminare, poi, per Padova, era proprio Manuela, da tabaccaia, che vestiva gli abiti di Isabella 90, fingendo di essere lei, quindi, sapendo che in quella zona ci sono le telecamere, fingeva, camminando, di essere lei, e, quindi, per simulare, che cosa? Per simulare un allontanamento volontario, quindi, vedete, la mente umana, a volte, arriva a queste cose qui, perché, simulando un allontanamento volontario, si metteva a tacere il fatto che era stato ucciso, quindi, questo fatto qui, di Isabella 90, dimanda l'idea di Antonella, perché, quella donna, quella camminata, quella donna, che si vede uscire da quel parcheggio, a me non convince, non convince, perché è una camminata troppo decisa, troppo perfetta, noi abbiamo visto quelle due immagini precedenti di Antonella, che entra in casa, con la spesa, esce, con un passo più svelto, ma sempre un po' claudicante, poi, all'improvviso, non c'è questa zoppia, diciamo, questa andatura qui, e allora, cosa, e poi anche la silhouette mi sembra un po' pure più magra, cosa, cosa significa questa, che, forse, ci vuole essere l'idea, che Antonella non sia lei, che Antonella, lì, a suquivo, probabilmente, non sia mai azivata, e allora, se fosse così, perché la donna, incappucciata, si fa vedere uscire dal parcheggio, e si fa vedere, anche, per quelle due telecamere successive. Sicuramente, può far parte di una messa in scena, può far parte di una messa in scena, come pure il fatto di essere avvistata da un paio di persone, mentre lei si mantiene la mano sul cappuccio, perché? Perché può essere, appunto, una messa in scena. E il fatto che poi il corpo venga ritrovato lì, nei pressi, a qualche centinaio di metri, può essere che sia fatta apposta, perché poi si riconduca quella donna vista a quel posto lì. Guardate che non stiamo parlando di fantascienza, anche perché ci sono altri elementi che inducono a pensare che sia tutta una messa in scena. Il fatto pure di quella bottiglia, quella bottiglia del liquido antigelo, di raffreddamento, insomma, che lo mettono nelle mani, nella mano destra della vittima, come se fosse un feticcio che si tiene con la mano. Ma attenzione, attenzione, lei era mancina, quindi non l'avrebbe mai tenuto con la mano destra, ma l'avrebbe tenuto casomai con la sinistra, ma poi questo liquido, una volta ingerito, provoca dei dolori, degli spasmi di lunga durata, come faceva a stare lì, a morire indifferentemente, in questo modo composto, diciamo. Poi questo echimo si presenti. Quindi non convince questa cosa qui, come pure non convince il fatto di questa bottiglia di liquido. Perché quando viene comprata questa bottiglia, noi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del divenditore che la riconosce perché riconosce una donna con quel piumino che è entrato lì e ha comprato una bottiglia, o conosce Antonella di massa perché è una conoscenza diretta. Attenzione, questo è importante perché se è una conoscenza diretta, allora è un altro discorso, quindi diciamo Antonella ha comprato lei perché il divenditore la conosceva direttamente e chissà a chi doveva postare questa bottiglia. Ma se non aveva una conoscenza diretta, allora è normale che l'idea va a Antonella perché se c'è qualcuno che entra al suo posto con lo stesso piumino, col cappuccio così e chiede una bottiglia di liquido di raffreddamento, l'idea va certamente a Antonella perché quante donne quella mattina hanno comprato una bottiglia di liquido di raffreddamento per auto? Certamente non credo più di una. Quindi certamente se si fa questa idea si dovrebbe anche dire perché questa messa in scena. E allora sicuramente dovremmo parlare, se fosse così, di un segreto nella vita di Antonella. Ora, qualcuno può avere qualche idea. Io quando sento parlare delle amiche che escludono il suicidio, le amiche che dicono può essere che sia stata ospitata, può essere che sia stata presa, può essere che sia stata nelle case vacanze, può essere che qualcuno l'ha aiutata. Ecco, ma com'è possibile dire ciò? Cioè perché una persona che prima si definisce tutto a posto, normale, poi doveva essere aiutata? Di che cosa? Cioè per quale motivo doveva essere aiutata? Allora se si ha conoscenza di una problematica è un conto. Pure gli appelli lanciati durante la sua sparizione erano appelli sui generis, cioè torna a casa, tutto si sistemerà, andrà tutto bene. Quindi facendo pensare che si facesse un appello ad Antonella che si era allontanata volontariamente perché aveva un problema, perché era successo qualcosa. Per me c'è qualcosa di strano. Quindi se c'è una messa in scena, dobbiamo pensare che qualcosa sia scattato dopo la sua uscita di casa. Dopo la sua uscita di casa è scattato qualcosa, soprattutto se non è lei che è andata a prendere il liquido da raffreddamento. Perché? Perché dico questo? Perché c'è questa ipotesi suggestiva? Perché vedete, dalla casa di Antonella fino a Sucquivo ci sono 20 minuti di macchina. Lei esce alle 10.54, arriva a mezzogiorno perché alle 12.06 viene vista la donna uscire dal parcheggio. Quindi immaginate, 10.54 uscita da casa, 12.06, quindi dopo oltre un'ora si vede questa donna che è sembra Antonella che esce a passo spedito dal parcheggio. Ora, volendo anche ammettere la sosta per comprare questa bottiglia di antigelo, mettiamo a 10 minuti, allora abbiamo 20 minuti di tempo canonico per raggiungere il Sucquivo. Mettiamo 10 minuti di sosta per prendere il liquido antigelo e siamo a mezz'ora. Manca almeno, almeno come minimo, manca come minimo mezz'ora di tempo. Inspiegabile, perché non ci sono altre soste, diciamo, ufficialmente. È lì tutto il segreto, perché c'è questa mezz'ora di buco fra l'uscita e, eventualmente, ecco, la sua macchina che va fino a Sucquivo. Abbiamo la sua macchina che va verso Sucquivo, una sosta di pochi minuti per comprare, chissà perché, l'antigelo e poi abbiamo la macchina nel parcheggio a Sucquivo. Siamo sicuri che sia lei? Io non sono affatto sicuro. E abbiamo questo buco temporale di almeno 30 minuti durante il quale potrebbe essere successo qualcosa. E se qualcosa è successo, non lo so se è successo che questa donna sia stata aggredita, sia stata soppressa, sia stata rapita in qualche modo e non sappiamo cosa sia successo. E quindi, il vero segreto, dicevo, sta nel vedere, eventualmente, cosa sia successo in quei 30 minuti di buco. C'è veramente un buco nella ricostruzione. E loro l'hanno presa, dicevamo, l'hanno segregata. È una sua cosa spontanea. Certo che se c'è stata una sostituzione di persona vuol dire che non è uno scherzo. Non è che si fa una messa in scena per fare un gossip, per fare un film. Certamente dietro ci deve essere qualcosa di molto più grande. E allora, quando si dicono queste mezze parole, chissà cosa è successo, sicuramente non è un suicidio. Qualcosa non torna, questa autopsia da cui non si sanguola niente. Questo corpo cremato, così in fretta. Possibile mai che non si dia in postanza a questa storia. Sono veramente curioso di sapere, perché prima o poi bisognerà pur sapere gli esiti di questa autopsia. Perché anche se venisse trovata qualche traccia di questo liquido refrigerante nello stomaco della povera Antonella, bisogna vedere in quali quantità, perché potrebbe essere stata versata anche post-mortem una certa quantità. bisogna vedere bene, bisogna vedere i residui che ci sono nello stomaco, nell'intestino, per vedere se effettivamente è stata viva diciamo per più giorni. Come pure le condizioni anche della biancheria non è concepibile che lei sia rimasta con gli stessi indumenti per tanti giorni. Come pure non lo so quell'avvistamento che è venuto fuori a chi l'ha visto di quei ragazzi che dopo sette, otto giorni hanno visto questa donna sdraiata lì su Marciapieto potrebbe essere lei o non potrebbe essere lei. Non ci sono elementi per dire. Certamente che il fatto che lei sia stata trovata lì nei pressi dove è stata vista l'ultima volta la donna col cappuccio è qualcosa che può essere sicuramente una messa in scena. Sicuramente. Qualcosa non torna in questo caso qui. Qualcosa non torna. Spero proprio che la top sia possa fare chiarizzo. Si parla anche di qualcosa che lei ha scritto il foglio così come se fosse l'ultima volontà non lo sono in effetti per quello che è filtrato sulla stampa si parla di una sorta di diario qualcosa che lei scriveva però non è un qualcosa che lei ha messo in evidenza prima di andare via anche perché a casa c'erano comunque le figlie quindi non ci sa nemmeno se abbia avuto una discussione certo che si vede lei che sempre claudicante esce però con un passo veloce come se fosse stata chiamata perciò dico vediamo pure le perizie sui cellulari come se fosse stata chiamata come se dovesse fare qualcosa in fretta poi vedete da lì questa fretta non diventa più tale cioè anche se di fretta uno esce perché deve comprare questo liquido per postarlo chissà perché a una persona sempre velocemente ma possibile mai che poi questa velocità non esista più perché questo percorso di 20 minuti diventa più di un'ora la sosta non può essere che di pochi minuti quindi cosa succede in quei 30 minuti abbondanti nei quali si perdono le tracce di Antonella cosa succede davvero fra Casamicciola e Succhivo Antonella è davvero arrivata a Succhivo c'è mai arrivata a Succhivo quella donna che a passo svelto e sicuro esce dal parcheggio e si fa vedere un po' lì a Succhivo siamo sicuri che lei per quale motivo lei doveva indossare questo piumino con il cappuccio alzato e nascondersi da chi da cosa perché se avesse avuto l'idea chissà come perché di suicidarsi non faceva queste alchimie voglio dire e soprattutto non avrebbe comprato quel liquido refrigerante che di per sé è tossico ma è tossico e non nell'immediato provoca dolori provoca vomiti provoca queste cose qui prima di poter provocare addirittura la morte ma non è un sistema per cui tu lo assaggi e muri stecchito e quindi di invenire un corpo dopo 11 giorni così rannicchiato quasi in posizione fetale con la messa in scena del sacco nero che non si sa cosa significhi il sacco nero con nella mano destra questa bottiglia quando lei era mancina ma poi se dall'autopsia dovesse emergere una mostra di 24 ore prima cosa possiamo pensare che quella bottiglia comprata il 17 di febbraio lei se la postasse come un feticcio se la postasse appresso così per berne magari un sorso ogni tanto ecco bisogna essere credibili quando si fanno delle ricostruzioni ora né particolare più di questo noi non possiamo andare perché non sappiamo ne facciamo delle deduzioni in modo indiretto però sapete che su questo caso è la prima volta questo è un altro unicum sta diventando questo caso perché è la prima volta che dopo dopo 22 23 24 giorni che l'autopsia è stata effettuata non si sanno notizie come se fosse segretata ma è qualcosa di inverosimile dobbiamo sapere altrimenti altrimenti davvero io non non molleroso questa cosa qui perché mi dispiace è una in qualche modo una una contesania una paesana insomma persone che sono vicini come territorio qui dove sto io quindi si farà proprio un video nel silenzio ecco senza dire niente soltanto scrivendo verità giustizia verità per Antonella ecco dobbiamo fare in questo modo qui non è possibile che noi accendiamo la tv vediamo le varie trasmissioni pure quattrogrado ore 14 mattino 5 mattino 4 pomeriggio 5 la vita in diretta e nessuno nessuno che parli di un caso che non è che è un caso che non interessa è archiviato così no è un caso sospeso sospeso ma veramente sospeso e che si chiama alla mente non solo il caso di Trieste con il suo fatto dei sacchi neri della sparizione non si sa quando è morto ma richiama alla mente proprio Isabella 90 ecco con questa persona questa Manuela che aveva indossato il giubbino il piumino della vittima facendosi vedere camminare sotto le telecamere fingendo di essere la vittima una cosa del genere potrebbe essere accaduta perché è accaduta c'è un segreto certamente che se è così c'è un grosso segreto che però nessuno ad oggi sa conosce o nessuno vuol dire quindi detto ciò per il momento vi saluto quindi condividiamo questo video con tutti i vostri amici con tutte le vostre amiche e anche su questo settimana prossima magari faremo una live perché perché non può finire così nell'indifferenza generale un abbraccio a tutti quanti voi a tutti